Che siano ancora momenti difficili, nessuno l'ha mai messo in dubbio, ma togliere il manufatturiero dalle priorità delle politiche regionali è un errore. È forte la presa di posizione di Andrea Fabianelli, presidente di Confindustria Toscana Sud, in merito ai contenuti previsti nel programma di sviluppo 2016-2020 della regione toscana. È apprezzabile che la regione si preoccupi di riservare attenzione alle aree di crisi, dice Fabianelli, ma quello che ci preoccupa sono gli ingenti tagli paventati ad alcuni interventi altamente strategici, come 35 milioni in meno sul PRS, un taglio del 66% delle risorse destinate all'efficienza energetica, di risorse insufficienti per coprire gli 80 milioni di investimenti già approvati dalla regione grazie al successo dei protocolli di insediamento. È rimasta, tra l'altro, inascoltata la nostra richiesta, dice ancora Fabianelli, di rendere più attinenti alla realtà i criteri di ammissione ai bandi per ricerca e innovazioni. Sono parole forti, parole che esprimono un sentito e diffuso allarme in difesa del settore che ha rappresentato, rappresenta e deve rappresentare anche nel futuro la colonna portante dell'economia del territorio. La speranza vive che gli organi regionali possano rivedere queste posizioni, i tempi che attraversano le imprese hanno bisogno di comprensione e sostegno da parte delle autorità politiche per cercare di garantire insieme un futuro per tutti.